Che fine farà Equitalia? Equitalia speriamo che faccia, non diciamo una brutta fine, che però faccia la fine che meriti in quanto esempio di come una pubblica amministrazione in qualche modo non debba vessare i propri cittadini. Sarà sicuramente non direttamente causa sua tutto quello che è successo perché si tratta di un'agenzia di riscossione conto terzi, principalmente per conto delle pubbliche amministrazioni, però oggettivamente lo fa in maniera esagerata e quindi è diventato l'esempio di quello che non si deve fare, per cui se anche sparisse non credo che i cittadini la rimpiangerebbero. Nel decreto sugli enti locali è stato approvato un emendamento della Lega Nord, che cosa prevede? L'emendamento prevede di togliere l'obbligo per gli enti locali in questo caso di mantenere il contratto in essere con Equitalia per forza e quindi dare la possibilità a chi ne ha la capacità o comunque aveva già studiato soluzioni alternative della riscossione dei propri tributi servendosi o in proprio degli uffici oppure di agenzie alternative. Quindi la possibilità di non essere costretti ancora ad affidarsi ad Equitalia per la riscossione. Questo come agevolerà i comuni e gli utenti? Beh, gli utenti li agevolerà sotto un aspetto anche psicologico, penso che se uno ha la possibilità di rivolgersi al proprio ufficio comunale per cercare di risolvere un problema di diversamenti, possa trovare delle persone magari un attimino più umane rispetto a una macchina così grossa come Equitalia che ha causato anche tanti danni e questo è soprattutto un aspetto umano della questione. Sotto l'aspetto organizzativo dipende un po' dai comuni, se nel frattempo come il mio si erano organizzati possono benissimo farne a meno e qualcun altro magari ha ancora necessità di tempo per cui può comunque continuare ad affidarsi ad Equitalia per sei mesi, per un anno e poi dopo può gestire in proprio la questione.